Ciao, bentornato oggi sul canale italiani con notizie come.Il GF Bip 7, di Alfonso Signorini, è durato talmente tanto che la partecipazione di Pamela Prati sembra già lontana, essendo uscita dallo spiato appartamento di Cinecittà nei primi mesi dell'avventura televisiva Il suo intento era scagionarsi dopo il Marc Caltaginore Gate, ora avrebbe un fidanzato 45 anni più giovane In questo caso un volto ce l'ha, il presunto nuovo fidanzato dell'iconica vamp del lontano Bagaglino. Non solo, già è uscito anche il nome perché, rullo di tamburi, sono uscite delle foto Modello in fasce, il baldo frequentatore di Pamela Prati sembra abbia soltanto 19 anni Differenza di età che superano con un bacio.Pamela Prati, il nuovo fidanzato è giovanissimo, chi è? Il suo nome è Simone Ferrante e il suo sguardo di ghiaccio sta già facendo impazzire il mondo dei social Erano già usciti allo scoperto ma di spalle. È successo quando Pamela Prati aveva pubblicato una loro foto, scattata mentre passeggiavano per le vie del centro di Roma, romantici e complici Una fan aveva commentato il post rivelando di averli visti e di essere rimasta piacevolmente sbalordita dalla bellezza della neocoppia Adesso è il settimanale diva e donna a dare in pasto ai curiosissimi lettori della cronaca rosa uno scatto rubato che ritrae i due piccioncini darsi un appassionato bacio A qualcuno potrà risultare inaccettabile, scandaloso, ma per fortuna della diva televisiva c'è anche chi li sta difendendo, spiegando che basta la loro felicità e niente altro Ma è un bambino, è un altro fidanzato fake, non impara mai, ipotizzano alcuni sui fan e sui social Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video